...produca una specie di processo, cioè come in fondo la... Sono rimasto particolarmente piacevolmente stupito del valore del progetto che potrebbe essere premiato anche a livello nazionale o internazionale. Ne è convinto il sindaco di Fano Massimo Seri che ha apprezzato il piano di rilancio delle terme. Un bellissimo progetto di altissima architettura, di altissimo valore, che è sicuramente un progetto che diventa un attrattore di forti investimenti, di grandi opportunità per il territorio, ma la bellezza è proprio un progetto che dialoga con l'ambiente circostante, che entra in punta di piedi, che non impatta con l'ambiente ma ad altissimo livello. E quindi penso che per la nostra città, ovviamente siamo ad una presentazione di un'idea progettuale, anche se ci sono stati studi approfonditi, però non è ancora un progetto a tutti gli effetti presentato. Però ecco, è una grande occasione che può far fare un salto di qualità alla nostra città che si unisce a tanti altri progetti di riqualificazione, di valore che la città sta facendo. Ma questo soprattutto diventa un attrattore di anche turismo termale di alto livello che si lega anche alla cura della persona, al benessere. Quindi effettiva valorizzazione anche della parte storica, tutelata, mantenuta nel verde con il fascino che ha. Soddisfatta anche Beatrice Morbidoni, presidente del comitato, che per anni si è battuto per la riapertura delle terme di Carignano. Per una città come Fanno sarà un volano per l'economia. E quindi devo dire che veramente è stata una bella presentazione, molto ampia e abbiamo capito il valore di quello che abbiamo già nella nostra città e che diventerà ancora maggiore. Quindi abbiamo delle acque meravigliose, molto curative, che verranno sfruttate nella miglior maniera e in più avremo tutto ciò che ne consegue, quindi a livello di spa, a livello di benessere, ma anche a livello curativo, a livello di clinica. Quindi penso che sia un progetto a tutto tondo.